Io sono Patrizia Manai, vengo dalla Sardegna, sono approdata a Chisinau circa un anno e mezzo fa perché avevo dei grossi problemi alla bocca, ero affetta da paradontite per cui continuavo a perdere i denti e il mio dentista mi comunicava che non potevo farci niente, che ero destinata ad una protesi mobile per tutto il resto dei miei anni. Io non ho accettato un verdetto così drastico e ho iniziato a fare delle ricerche in internet per cercare delle cliniche specializzate in una riabilitazione profonda e fra tante ho poi scelto quella della SS Turismo Dentale del dottor Palmas in quanto le recensioni erano quelle che a me sembravano più consone al mio caso, erano recensioni di eccellenza e quindi ho preso contatti poi con la clinica e invece sono stata coccolata dallo staff, dal mio chirurgo Andrei che mi ha tranquillizzato in tutte le maniere e ho provveduto a mettere i provvisori con cui praticamente sono diventata un'altra perché ero anni che non sorridevo, che cercavo di non avere contatti ravvicinati con le persone perché mi vergognavo e invece anche con i provvisori ho iniziato a sorridere, avere contatti con la gente, uscire con gli amici, andare fuori a cena, tutte quelle cose che io mi stavo privando da anni. Sono ritornata dopo sei o sette mesi, ho messo i provvisori e la mia vita è completamente cambiata, sicuramente è meglio. Quindi io penso che non valga la pena soffrire tanto se c'è una soluzione, quindi chiunque abbia delle titubanze, delle paure, le paure si affrontano, le titubanze passano, mettetevi nelle mani di personale specializzato, di gente che vuole il vostro bene, io non tornerei mai indietro, io lo farei altre cento volte quello che ho fatto, lo consiglio comunque a chiunque abbia vissuto una situazione di disagio come quella che ho vissuto io. Per me è tutta un'altra cosa, cioè sentirti dire prima in Italia che non c'era possibilità perché io non avrei potuto mettere gli impianti in quanto avevo carenza ad osso, non avrei potuto fermare la paradontite perché ormai era estesa tutta la bocca e invece... E invece io oggi ho gli impianti, ho i miei bellissimi denti fissi e sono un'altra persona. E non lo dico solo io ma chiunque mi conosca. Cosa dicono? Mi dicono che sono cambiata anche caratterialmente perché io non sorridendo sembravo sempre una persona arrabbiata, distante, scostante, però non era così, è che io non volevo proprio avvicinarmi alle persone perché mi sentivo a disagio. Era un disagio mio, magari poi gli altri non sapendolo avevano un'opinione di me che non corrispondeva al vero. E quindi mentre oggi io sono quella che sono, sono una persona sorridente, solare, esco con gli amici, faccio viaggi, ricomincio a vivere. A questa età ricomincio a vivere.